Questo programma è offerto da Vitaler e Medicasa. Change in care with you. Cambiare l'assistenza insieme a voi. Su Radio ISAB, Mondo SLA, con Lorenzo D'Andrea. Buongiorno e benvenuti in questa nuova puntata di Mondo SLA. Oggi continuiamo con il format di andare a casa dei pazienti. L'abbiamo fatto in Abruzzo e continueremo a farlo perché tra qualche settimana ci sarà un paziente abruzzese che tutti conoscete. Oggi invece, con il collegamento direttamente qui in video, andiamo a casa di Catiuscia Colombo, che risiede a Sant'Angelo Lodigiano, in provincia di Lodi. Lei ha da poco compiuto 49 anni con i primi sintomi che ha avuto addirittura nel 2017. Saremo sia con lei che con il marito Venanzio per capire anche in Lombardia come funzionano le assistenze e i sussidi economici. L'appuntamento è per tra poco perché li vedo già collegati con la nostra radio. Radio ISAB Amici, radioscoltatori e telespettatori di Radio ISAB, ancora buongiorno da parte mia di Lorenzo e benvenuti di nuovo su Mondo SLA. L'appuntamento del sabato mattina alle ore 11 sulla nostra emittente Radio ISAB. Questa mattina abbiamo ospite, già la vedete dai nostri teleschermi, Catiuscia Colombo, che il 16 settembre di quest'anno, praticamente qualche giorno fa, ha compiuto 49 anni. Lei è di Sant'Angelo Lodigiano, in provincia di Lodi, e come lavoro faceva la dirigente in una mensa aziendale. Ha due figli, una Melissa di 23 anni e un figlio di 27 anni, Mattia. Oggi con lei vogliamo sapere qual è stata la sua storia, perché poi è giovanissima, i primi sintomi addirittura a 43 anni, e ce lo faremo raccontare direttamente da lei. Solo che Tuscia Colombo, e adesso sintetizzo la mia testimonianza. Ho avuto i primi sintomi a ottobre 2017, non avevo forza al pollice e indici della mano destra. Non riuscivo ad alciare le stringhe, i bottoni, le cerniere. Con l'elettrobiografia mi hanno operata il tunnel capale intimmente. Inciampavo e parlavo più lentamente e avevo le fascicolazioni. Ma nessun dottore capiva cosa avevo. A febbraio 2019 mi hanno diagnosticato questa malattia. Dopo un anno e mezzo, ho avuto difficoltà ad ottenere l'invalidità al 100%, ho dovuto fare ricorso. E quando l'ho tenuta mi hanno dato il suo elevatore e il letto ortopedico nonostante non ne avessi bisogno. Non c'è stato nessuno che ci consigliava dove, cosa, com'è quando andare a chiedere aiuto economico e assistenziale. Sono stata licenziata scante, mio marito ha perso l'attività. E abbiamo perso la casa in mutuo dopo poco. Sono trascorsi sei anni dai primi sintomi, che batti vecchi con il Comune perché offriva servizi scadenti a pagamento barra riborsabili. Io e mio marito siamo soli e abbiamo bisogno di aiuto. Sappiamo attraverso altri malati con questa patologia che vivono in altre regioni. L'assistenza cambia in maniera esponenziale tra regione e regione anche all'interno della regione stessa. Io sono in Lombardia e ho scarsa assistenza e sono costretta a fare stare a casa mio marito dal lavoro. Occorre avere una stanza per ospitare una pedante convivente e soledio una idea a trasferirci in Lazio. Per il trasloco ci vogliono tanti soldi e di conseguenza ho aperto una raccolta soldi sulla piattaforma GoFound. Attenzione! A nome di tutti i malati di tutta Italia, ci venga unificato al più presto il trattamento economico barra assistenziale per tutte le regioni, così come il modello Lazio-Buglia per città e qualcuna. Grazie Catiuscia di questa esperienza e di questo racconto. Hai sottolineato tanti temi che poi sono comuni in tutta Italia. Ne abbiamo parlato anche nel fuorionda del fatto di una disparità di trattamento di pazienti da regione a regione, dal fatto dell'erogazione economica che è diversa da regione a regione. Gli aiuti per l'ASLA non bastano mai, soprattutto in queste situazioni. Poi anche il fatto di dire magari che non avete avuto orientamento sin dall'inizio della diagnosi, perché noi lo diciamo sempre, ma è una costante di tutti i pazienti. Si entra in un nuovo mondo che non si conosce per niente ed è molto molto complicato, anche dal punto di vista burocratico. È vero che nel Lazio le assistenze, ma anche gli assegni che vengono dati per il mantenimento di queste assistenze, sono molto superiori anche all'Abruzzo, dove noi siamo qui ora a Pescara, ma non è solo l'Abruzzo, in tante altre regioni voi siete in Lombardia e più o meno la situazione è simile. Katiuscia ancora grazie, poi mi ricordi tanto mio padre perché hai 49 anni, mio padre ha avuto la diagnosi a 48 anni, a differenza tua hai impiegato meno tempo perché i sintomi erano più evidenti, era una SLA bulbare molto più aggressiva, quindi prendeva sia la parola che la respirazione. Persone che vanno aiutate, mi piace anche l'appello di dire malati italiani, perché ci rivolgiamo in questa trasmissione a tutta la SLA italiana, a tutte quelle persone interessate a questo argomento comunque che ne sono coinvolte. Tra pochissimo rientriamo sempre in studio qui su Radio ISAB, con Mondo SLA, con il marito, il signor Venanzio, e parleremo di praticamente tutti gli aspetti che la signora Katiuscia ci ha appena evidenziato. Radio ISAB Mondo SLA, Lorenzo con voi, ma insieme a Katiuscia Colombo, ve lo ricordo di Sant'Angelo Lodigiano in provincia di Lodi, e al marito, il signor Venanzio. Venanzio, buongiorno. Salve, salve. Buongiorno, allora Venanzio, posso dire la tua età, me l'hai svelata prima, hai 62 anni, tu hai fatto lo chef, in giro per il mondo. Se lo vuoi dire, mi fa piacere perché hai girato moltissimo. Io all'epoca ero un poco della mensa ospedale maggiore di Crema, e Katiuscia invece, Katiuscia è stata anche una host, tra virgolette, l'ho conosciuto lì appunto che lavoravo in ospedale, e un giorno è capitata così, per sua sfortuna, cioè immensa, e io subito ho percepito questa sensazione di attrazione, ma è che, insomma, da quel giorno ci ho messo un po' di mesi, ci ho messo un po' di mesi, ma poi è caduto nella mia ragniatella, insomma. Comunque, questo è stato l'inizio. E da là abbiamo incominciato subito a fare delle evoluzioni, abbiamo pensato, anche perché la mensa ospedaliera è stata una salata di gestione a un privato, quindi a me non mi stava più questa cosa del privato, poi l'azienda tra l'altro non era un'azienda sana, e allora io ho cominciato ad andare via, dopo di me Katia, pure lei dice, allora che fai? Insomma, pure lei è andata via dall'ospedale, e abbiamo cominciato una lavanderia, che non c'entrava niente con il nostro, però una lavanderia, poi due lavanderie, poi cambia nel senso di marcia, perdiamo che, insomma, ci sono state un po' di disavventure, che comunque, mentre stavamo andando su, poi è un proviso, dovevamo riconoscendo la casa. A che? Io ho detto, ho preso la palla a base, ho detto, vado a lavorare con delle aziende multinazionali estere, lavoro, ho lavorato fuori sulle navi, piattaforme della Eni Petroni, sono stato in Iraq, in Afghanistan, per quanto riguarda le emenze dei soldati, quindi sul fronte, insomma, ho girato il mondo, poi con lei siamo stati due anni a Singapore, siamo stati due anni a Singapore, le isole di un intorno ce le siamo fatte tutte, insomma, stavamo veramente tranquilli, pataggiati. Dopodiché, la mia azienda, io quando tornavo a casa, non mi faceva nessun problema, se abbinassi a Milano o a Parigi, per loro era uguale il biglietto dell'aereo, ma lo facevano loro, quindi io dove stavo stavo, e decidiamo di trasferirci in questa zona di Lodi, nella provincia di Lodi, perché per avvicinarsi un po' alla famiglia, perché io e la mia famiglia, e giù, quindi non c'è nessuno, a parte mio nipote che a Milano, non è tagliato, non sono un'attività di un'attività, di prendere sta casa, è stata veramente una mia idea, perché ho detto, insomma, abbiamo oggi la possibilità di affrontare questa cosa, facciamola, perché comunque, un detto fisso, perché 11 anni abbiamo cambiato, 13 casi, insomma, cosa che c'è, ma sempre perché l'azienda mi spostava in varie regioni, in varie coste, e niente, abbiamo comprato, abbiamo fatto sta villetta, abbiamo comprato, abbiamo fatto un paretore, ma alla fine, agosto 2019, abbiamo, no, 2018, 2018, abbiamo fatto quest'atto, e a febbraio 2019, Katia ha avuto questa problematica, e quindi non abbiamo potuto più accedere al mutuo, perché la sua busta paria, andava bene, io non avevo la sua busta paria, perché c'era il 7.30, quindi come libero professionista, non ero molto credibile, nonostante i bilanci, i cardinanci, e niente, decaduto il suo posto di lavoro, abbiamo, cioè, muto la peron, la casa la dobbiamo proprio vestituire indietro, perdendo circa 60.000 euro, macchina nuova, chiaramente, due, che avevamo dubbi, e chiaramente, tornare indietro, con triste e ammari, quali erano anche brutte figure, che io, avevo un su, non mangiato, morivo, quando sono venuti a prendersi la macchina, perché comunque, fino all'ultimo, e lei non era d'accordo, nonostante la crisi che avevamo, di economica, io, fino all'ultimo, ho cercato di pagare, almeno, una, perché comunque, una macchina, mi serviva per lei, per andare a fare visi, e allora, che cosa avrei comprato, inserito, macchina nuova, perdevo queste, e quindi, alla fine, ho lottato, però, non c'è stata niente da fare, purtroppo, se è così, se non paghi, via, ok, forse per noi, per gli altri non lo so, e niente, e da lì, è incontrociata, quindi, veramente, la discesa, economica, si chiamano, cresceriti, in una casa, che è 45 metri quadri, e a volte, facciamo, facciamo le lotte, a chi deve entrare prima, se la carrozzino, io, il cane, abbiamo un barlocino, che è piccolo, meno male, che è piccolo, come grande, però anche lui, fa numero, è niente, quindi, disagi economici, disagi a livello, a livello proprio, di assistenza, per quanto riguarda, tutta la messa in pratica, allora, tu, non c'è stato mai nessuno, che mi abbia detto, perché, chiaramente, che doveva fare, allora, ero io, quello che mi esponevo di più, veramente, ma nessuno mai mi ha detto, ma è qua, fai questo, inizia con questo, poi dopo di questo, linea, linea, parli così, mi informavo, vedevo su internet, e cercavo di capire, i nuovi metri, e dalla piano piano, poi ho cominciato appunto, con l'aisla di Milano, la quale all'inizio, c'è un grosso mano, a chi chiamare, gli ha dato dei numeri, di telefono, di dottoresse, di medici, eh, perché anche la SSP, noi siamo in continuo, in continuo con Butta, perché cercano, non ho capito il bene, però all'inizio, pure lì ho fatto un po' di contrasti, perché non capivo bene, se volevano spendere, se non volevano spendere, i soldi per caria, andavano con le cose giuste, nel, avere una carrozzina, giusto perro, oppure piuttosto, un letto di decubito, che l'alleno gli serviva, c'è questi materiali, che ho capito, che dietro c'erano solamente, alla fine, un introido, non lo so, un po' particolare, da parte delle ASD, ho chiaro, sempre cose che si prendono, non lo so se ci sono, però, mandare subito, degli argomenti, che non servono al momento, mi sembrava più giusto, mandare assistenza, a livello proprio fisico, che è quello che ammatti, le paranti che arrivano a casa, noi siamo passati, una settantina, ma, appena la vedono, mezz'ora, il caffè, e vai via, scappano, una settimana, per capirla, e poi andavano via, ci sono state delle persone, delle, che sono riuscite a rimanere, ma non di di, tre, quattro mesi, e nonostante c'ero io in casa, che aiutavo, a volte si raccontevano, e comunque, dovevano uscire un po', insomma, un lavoro, qualcosa da fare, Venanzio, ma, ora, da chi siete supportati, nel senso che, Aisla vi supporta ancora, avete altre associazioni, sul territorio, che vi danno una mano, per fare tutto? Allora, attualmente, no, Aisla, attualmente è sparita, tra virgolette, perché io, dopo tre, quattro, cinque telefonate, il mail che abbiamo mandato, il visto che lo rispondeva, non vorrei, chiaramente, dare delle opinioni, alle altre persone, che tra l'altro, non sono presenti, io dico, comunque, a me, non mi hanno risposto più, quindi, l'Aisla, l'abbiamo automaticamente, forse perché ci aveva aiutato, in una maniera abbastanza consistente, prima, ha ritenuto opportuno, dire, vabbè, adesso basta con voi, dobbiamo andare agliariati, voglio prendere, sotto questa forma, sempre positivo, mai pensare negativo, e quindi, l'Aisla, quindi non abbiamo nessuna associazione, alle spalle, e siamo su, il comune, è in commissariato, il sindaco, ma, non c'è più, ma, la domanda, che si stanno facendo tutti, Melanzio, ora è questa, se tu hai dovuto lasciare il lavoro, da sette anni, ovviamente, perché la situazione è questa, non è che, è una situazione, in cui puoi fare altro, Catiuscia, è purtroppo affetta, da questa patologia, come vi mantenete oggi, e soprattutto, chi vi dà una mano a casa, se c'è qualcuno, fai tutto tu. Allora, in pratica, oggi ci manteniamo, grazie, comunque sempre, grazie, non so se devo dire, grazie, la B1, la misura B1, che adesso, è stata aumentata, perché, finalmente, la dottoressa responsabile, ci ha voluto fare, diciamo, questa donazione, dicendo, vabbè, dai, ti aumento di categoria, vai più in alto, c'è, ma dove fosse, magari a premi, ci ha dato il massimo della disabilità, 24 su 24, 7 su 7, e quindi, da questo mese, finalmente, avrà 300 euro in più, dai 1.000, quindi, prenderà 1.300 euro di più 1, e poi, c'è la pensione, dell'Inps, quella di invalidità, la pensione, l'elaborativa, nonostante 20 anni, i contributi versati, l'Inps non gliela riconosciuta, quindi, la pensione, l'amorativa, ha persato i contributi, così, per 20 anni, e noi gliela hanno data, e poi, un mese fa, mi sono deciso io, di risale la pianta, così, mi sono messo sul sito dell'Inps, sono entrato, e non si è come ho fatto, noi ci sono riuscito, a chiedere, la domanda, del reggisitamento di alianza, per caduce, perché io non lo posso chiedere, e niente, è stata accettata, quindi, da questo mese, prenderà questi 600 euro in più, spero che sia 600, magari qualcosa in più, e allora, diciamo che, qualcosino, lo spiraglio, perché io, allora io, abbiamo una balante, che è bravissima, è quella che, diciamo, è il nostro, è il nostro, per il nostro fulco, dove noi due, ci attenriamo, a tenerla dentro, in tutte le ganchette, le nostre cose, è diventata, diciamo, la mamma, diciamo, per me la sorella, per me la zia, insomma, quindi, diciamo, dentro di tutte le storie, quindi, sta qui solo la mattina, purtroppo, fino all'uno, diciamo. Ma fa solo quattro ore. Esatto, e quindi, poi, dove sto, lei mi manda un messaggio, dove sei, sei, torna a casa, quindi, io, se lavorativamente, nel mio campo, dovessi fare, che non ho scelto, in un ristorante, ammesso che in modo, qualcuno mi assuma, perché con l'età, lo sai, ha qui, 62 anni, pensano che noi, a 62 anni, siamo delle persone, gracili, siamo delle persone, con dei problemi fisici, no, io penso di essere, ancora abbastanza in forma, e di essere abbastanza competente, nelle mie materie, però, il lavoro, comunque, non lo riesco a trovare più, e niente, stavo dicendo il discorso, che mi sono perso. No, hai detto, hai detto tutto, perché, hai spiegato bene, i fondi che avete, hai spiegato che avete, sono abbalante per quattro ore, il resto è aggiornato, ovviamente, ci devi stare tu. Come sto so, mi vorrò a casa, e rimango in casa, fino a magari solo un'ora, due ore, per portare il camionino in giro, perché sennò, sarebbe chiuso quello lì in casa. Infatti, questa, Venanzio, è la vita di tutti i cargiver familiari, io lo dico, da, maggior ragione, ma io lo dico, da tantissimi anni, da quando ho fondato questa associazione, è vero che colpisce una persona, la malattia, ma effettivamente, colpisce tutta la famiglia, perché poi tutti gli altri, si devono riorganizzare, in funzione di un paziente, che non è più autosufficiente. Allora, Venanzio, ci fermiamo un'altra volta, perché nell'ultima parte, voglio parlare, anche e soprattutto, per aiutarvi, di quella raccolta fondi, che avete fatto su GoFammy. Ultima parte di MondoSla, insieme a Catiuscia Colombo, e a suo marito Venanzio, che risiedono, lo ripeto, a Sant'Angelo Lodigiano, in provincia di Lodi. Questa parte è un po' per aiutarvi, Venanzio e Catiuscia, perché voi, l'anno scorso, avete lanciato una raccolta fondi, sul sito GoFammy, che sono andato a vedere, mi avete girato, e che trovate il link, tra pochissimo, sopra i nostri schermi. Venanzio, che tipo di raccolta fondi è, e perché vi servono questi soldi, perché poi la gente vuole sapere, sì, doniamo, però, che cosa ci faranno? Il sogno, il sogno proibitivo, perché secondo me, il sogno proibitivo, è quello di prendere, almeno, non nuova, ma almeno una macchina, adeguata, per il trasporto, che ci sia, per la carrozzina, perché io adesso, tra l'altro, abbiamo difficoltà, devo chiamare, tutte le volte, la croce bianca, che doveva essere un servizio gratuito, o meno, freddo lo so, dove è stato un po' meno pesante, di quella che è stata, perché, ora che è stata ricoverata, riguarda, a luglio, quattro viaggi, ho pagato circa 600 euro, la croce bianca, la croce bianca, assurda, figuriamoci se chiamava la croce rossa, a questo punto, mi faceva ancora più male, e niente, quindi il sogno, che vi dico, perché comunque, una macchina usata, anche usata, con la pedanea, via risparrendo, con il discorso carassino, abbiamo visto, che comunque si accidono, su grosse cifre, per noi, per noi, su grosse cifre, per tutti, noi l'abbiamo presa quest'anno, e per tutti sono grosse cifre, noi con l'associazione, per fortuna, siamo riusciti a prenderla, ma abbiamo speso, quasi 30 mila euro, qui voi avete, avete impostato, una raccolta fondi, di 25 mila euro, su questo sito, infatti, lo trovate, perché all'inizio, prima, secondo me, abbiamo pensato, perché appunto, come diceva, che riusciremmo, il discorso di traslocare, da questo posto, perché abbiamo capito, che qua, è veramente un disastro, a livello, proprio, di aiuti, ma a parte da economici, perché bene o male, ok, ma anche proprio per lei, io non vedo mai un volontario, io mi devo andare qua, che ciro, non ti vestiti, volontario di qua, volontario di qua, e io gli ho detto, uno di questi, scusi, ma tu sei un volontario, ma c'è un mio voglio, ma la tesi va, sto io a casa, che non posso andare a lavorare, ma tu non potessi venirlo, mi diceva, ragione che mi sono le persone che ti devono andare a lavorare, quindi ci manca proprio la assistenza da parte del comune, servizio, adi, comunque ha un vuole di una propria partecipazione in soldi, che non sono andato pochi, comunque abbiamo visto che a Puglia nel Lazio, come diceva prima lei, che ha visto che magari anche il figlio che già lavora lì a Roma, magari ci stavano affievolando l'idea di poterci trasferire lì, ma io basta solo pensare, come mi trasferisco, anche volevo lasciare tutti i mobili qui, tutte le cose in questa casa, però ecco, io ho chiamato delle agenzie giù, però alla fine ci vogliono i soldi per la casa, si sa, i soldi per la casa, i soldi per il trasporto, un trasporto a lei fino a Roma, non so come lo facciamo, insomma, c'è da rivedere tutto, però alla fine mi blocco subito, perché ci sono i problemi di soldi, quindi questa raccolta fondi è nata, è nata proprio per iniziare questo discorso, di poterci trasferire in un luogo migliore, più salve per lei, tra virgolette salve, ma meno che abbia più assistenza, e io voglio che mia moglie viva ancora il tempo che il signore a questo punto gli dà da vivere, ma in un modo adeguato, perché così non è vita, anche per me, io mi sento pure, io ad un certo punto, dicono, perché io la faccio stare sempre a casa, ma perché mi faccio stare, perché io ho mai, tra l'altro, sono spagnato stantissimo a stare, a far stare da qua, un po' anche così, quindi non c'ho quello stimolo più, perché penso più, se ho dei minuti e lei mi lascia liberi, penso a curarmi io, perché ho bisogno anche io di curarmi, quindi ho bisogno di qualcuno di assistenza, ci vorrebbe più assistenza, più persone, cose che giù ci sono, anche la fisioterapia, la fisioterapia chiamano, se settimana non vengo, se è malata, però la cooperativa che ci manda la fisioterapista, non pensa subito a mettere la sostituzione, quindi lasciare in Italia, ci hanno lasciato nove mesi senza l'opopetista, e lei è pregierata tantissimo. Ci credo, ci credo. Allora Venanzio e Cadiuscia, io vi ringrazio per essere stati con noi, tutti i radioascoltatori e telespettatori potranno vedere il link di GoFound.me per aiutarvi, ricordo che l'importo e l'obiettivo è di 25.000 euro, finora sono stati raccolti, e leggo direttamente sul sito, circa 3.700 euro, quindi l'appello è quello di fare anche una piccola donazione, però per arrivare a prendere un mezzo che sia usato, non importa, un mezzo per far uscire la signora Cadiuscia, che ripeto ha 49 anni, quindi ha tutto il diritto di uscire, magari con suo marito, di farsi una passeggiata e di non stare a casa. Grazie ancora, io vi ricordo che... Grazie, grazie ancora, vi ricordo che questa puntata sarà disponibile in podcast su YouTube, sul canale Radio ISAV, sabato prossimo alle 16.30, e quindi si potrà rivedere tutta. Auguro a tutti i radioascoltatori e telespettatori una buona domenica, e un buon fine settimana. Ciao a tutti. Grazie a tutti. Grazie, grazie, grazie ancora. Questo programma è offerto da Vitaler e MediCasa. Change in care with you. Cambiare l'assistenza insieme a voi.